Buongiorno La spinta, è il mio lavoro d'altronde ho avuto la possibilità è un lavoro che mi piace, speriamo di fare belle cose Il Presidente cosa l'ha detto? Deremo ai tuoi colleghi quando mi sembra non corretto non parlare con gli altri Mi serve grande entusiasmo per salvare questo paletto Grazie, grazie Io ce l'ho C'è sempre questa cosa di essere stato l'unico Ecco, bravo Di qua, mister L'importante è lavorare Conosco bene